Enzi, Olso, oggi ci siamo, è un quarto posto di tappa che comunque è indicativo della vostra posizione che sta crescendo. Sì, oggi siamo partiti un po' male, io ho fatto fatica sulla prima, ho sbagliato un po' le pelli, poi ero un po' affaticato da ieri, poi mi hanno preso un buon ritmo, gli altri erano un po' affaticati e siamo riusciti a riacganciare anche Bon Marjone che è sci, poi qua nell'ultimo pezzettino in discesa mi si è agganciata la punta in un ramo, ho perso la sci e mi hanno perso qualche secondo, però domani c'è ancora una bella gara, siamo distantissimi dal foglio con una crisi e una bella gara, magari qualcosa si può fare. Vediamo di avvicinarci a quelli davanti, le condizioni d'alta sferano, ma c'era freddo, erano un po' a limite se vuoi, però ci siamo tirati in giù abbastanza in fretta, c'era un po' di vento, forse gli ultimi 220 di slivello, però alla fine in Interi particolare.